Ciao a tutti ragazzi sono CeroFeeds e oggi siamo qui in questo nuovo video di Subnautica Nello scorso in risodio abbiamo fatto tante cose, ci siamo preparati per fare la base nella terra dei funghi E quest'oggi c'è la terra, più o meno, dei funghi e quest'oggi andiamo a farla Questo coso qui c'è sempre stato, io l'ho già controllato mi sa, quindi lasciamo perdere Eeeh tu sei buggato, ci vediamo lì Ragazzi mi ha colpito un pesce mi sa, adesso sto, il Simult è molto danneggiato, devo sistemarlo, si può così? Sì, meno male Allora lo sistemiamo Si è riparato? Sì molto bene, caspita pensavo di tipo doverne fare un altro Andiamo addosso al Kraken Chissene se poi dovrò riparare il Simult Io ci vado addosso Laggando come un non so cosa Ok, non è stata una cosa molto intelligente, ma molto bello devo dire Ho ancora le luci accese? No, ok Allora, qui abbiamo un fungone gigante Che potrebbe essere un buon punto per fare la base Direi quindi di farla proprio qui Qui c'è il dirupo dove abbiamo visto quel mostro incredibile Quindi direi di metterci qui e E costruirle La base Tu non ti allontanare Tanto ti ritrovo Ok, facciamo il tubo Questo qui, quello base Non lo mette Oddio, perché? Perché non lo mette? Ah, così si ruota Ma non lo mette! Quello di vetro neanche? Vuole la piattaforma? No, vuole la piattaforma! Allora non posso farlo, caspita Devo farlo più sotto? Speriamo che qui vada bene Vuole una base più solida Ok, qui sì Perché su questo fungo qui no? Qui sopra sì Vabbè, vediamo un po' No, io voglio metterlo però lì, eh Ok Mettiti Qui Ok Allora, adesso facciamo Ora Mettiamo questo Vai Ok Ok Entra nella base Perfetto Adesso dobbiamo mettere l'energia Quindi Ci serve Che cosa è successo? Buh Allora, quindi Mettiamo Il pannello solare Proprio Qui Vai Ossigeno quasi finito Presto Ok Per fortuna si è attivato Ok Benissimo Siamo qui Poi Cosa? Non ho il titanio Non ho contato il portellone È vero Non l'ho contato prima Caspita Pensate di aver fatto tutto giusto Quindi non posso neanche fare Eh, mi sa proprio che non posso neanche fare i Gli armadietti Questo cos'è? È la camera? È il Cyclope Possiamo fare il Cyclope? Ah no Ah Dov'è che sta? Il Cyclope si divide in pezzi Quindi Quindi io lo scafo Il ponte Ah ok Allora è più complesso da fare Vabbè Allora ci serve un pezzo di titanio Caspita Qui c'è il litio Ecco Quello è il titanio? No È sale Dove cavolo trovo il titanio Qui E dov'è la base di pezzi Ok eccola Allora Entriamo qui Anzi Prendiamo il Simut E ci vediamo quando ho preso questo pezzettino Del cavolo Staccavolo di zona Non ci sono minerali ragazzi Però Lì ho trovato un pezzetto Che non è di Qualcosa che abbiamo già trovato È anche una Oddio Oddio Un essere Non mi interessa Lui invece si interessa a me Si sta interessando a me Io prendo il Cyclope Non mi interessa di te Il brutto coso Io voglio essere andato No Ok Se n'è andato Sembra Allora È l'impianto termico Ma Vabbè Io lo prendo L'impianto termico Però Non ci sono minerali qui Non ce n'è Allora Lì vedo qualcosa di particolare Magari trovo No Niente Perché in questo posto del cavolo Non ci sono i minerali Pesci Pesci Cod'è questo C'è anche una Che spavento Ancora Cyclope Sì ma a me non mi interessa Aspetta Se non mi sbaglio Se noi troviamo un frammento Della stessa cosa Che abbiamo già analizzato Potrebbe essere Che ci dia Del titanio Oh Sto per morire Dove è caspitare Simoth È laggiù No Non ci posso credere Sono morto Come un idiota È che non c'ho le cuffie In questo momento Non c'era proprio qui E quindi non ho sentito Che mi stava dicendo Che stava morendo Ma non dovrei aver perso niente Tranne il lag Sì per fortuna Le cose ce l'ho ancora Ok E sono rispawnato qui Io volevo rispawnare a casa Per prendere il titanio Che mi mancava Che roba ho trovato Il titanio Non ci ho trovato il titanio Però ci si potrebbe trovare Si è bugato il gioco Si è bugato il gioco Completamente E qua Eh Aspetta Ma sono iniziato io forse Allora Non mi sono accanto Perché noi Ragazzi si è bugato il gioco Non mi fa più giocare No dai Non ci posso credere Che cosa è successo Ragazzi Il gioco Aveva Completamente Riempito La memoria Del computer E ho dovuto Cancellare Tutti i vecchi video Che tanto I vecchi video Che avevo già pubblicato E Fare i momenti E piccini Videogiochi 16 circa Che vedete Fra un bel po' di tempo Mi sa Dove sono No Mi sa che Mi ha caricato Il sabato Vecchio Non c'ho più Il cyclop Io ragazzi Non ho parole Perché Ragazzi Io non c'ho parole Devo rifare Tutto da capo E mi attaccano pure i pesci Che cosa è successo Anche Ragazzi Rifarlo tutto da capo E nel prossimo episodio Avremo la base funzionante Nel mondo dei funghi Direi ciao a tutti Nel prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti